Proseguono le iniziative culturali nel comune di Bova, come spiega il vice sindaco Gianfranco Marino la scelta riguarda le tematiche più disparate. Questa la volta di Michelangelo Di Stefano ad esaminare la pagina più cruenta della storia italiana racchiusa nel titolo del suo libro Il treno del sole e cinque anarchici, l'ombra di Gladio, drangheta stragista e la falange armata. Michelangelo Di Stefano, la questione drangheta stragista è ancora aperta o è chiusa? E se è aperta per quale motivo? È aperta semplicemente perché ancora c'è un giudizio che è soltanto il giudizio di merito e deve passare per la legittimità. Poi che ci possano essere altri filoni non siamo noi a dirlo ma sono stati i giudici di primo grado che hanno indicato alla procura altri temi su cui indagare oltre in relazione a quelle che possono essere tematiche riguardanti i mandanti esterni rispetto a quelli che sono stati individuati per il profilo di tipo criminal mafioso. Il suo libro che novità apporta? Il mio libro non riguarda l'attualità di drangheta stragista ma fa una fotografia di quelle che sono le risultanze di drangheta stragista che vanno però correlate a risultanze precedenti che sono state collazionate facendo una fotografia di documenti giudiziari senza alcun tipo di commento personalistico partendo dall'immediato dopo guerra e analizzando quello che era uno schema delle strutture stay behind che erano state realizzate dagli Stati Uniti assieme agli inglesi per creare una sorta di sistema di cellule dormienti all'interno di tutte le realtà occidentali che potessero essere di contrasto al patto di Varsavia. Si dice che l'aspetto militare deve andare di pari passo con quello culturale. Oggi la società a che punto è? Qual è il grado di consapevolezza su queste tematiche? L'aspetto militare è un qualcosa che viene indicato dai tempi della storia per ragioni che tutto hanno a che fare fuorché a un atto di belligeranza ma esclusivamente di difesa delle proprie istituzioni, dei propri consociati è nulla di più. Quindi rispetto al passato è cambiato poco nulla. Che poi le realtà sociali possano avere o meno consapevolezza piena di quello che è il significato di una difesa militare è altra cosa. La stessa nostra carta che è stata scritta nei nostri parti costituenti dopo la guerra fa riferimento a quello che è il dovere del cittadino di collaborare a difesa della patria. Quindi è un concetto ampio che va al di sopra di quelli che sono gli altri diritti e gli altri interessi legittimi del cittadino. Gianfranco Marino invece espone il punto di vista della politica su questi fatti accaduti. Sì, intanto un altro appuntamento, quello di stasera, per il quale ringrazio il dottore Di Stefano sicuramente di alto profilo come quelli che si sono susseguiti nell'ultimo periodo e sono particolarmente contento, siamo particolarmente contenti di questo come amministrazione perché offriamo l'opportunità di un dibattito, di una riflessione su temi molto importanti. Temi legati alla storia, ai misteri italiani, misteri lontani nel tempo, quasi mezzo secolo ma di stretta attualità riproposti dal processo andrangheta stragista. E quindi è stato un lavoro, quello del dottore Di Stefano, importantissimo e fatto da una prospettiva privilegiata e da un professionista impegnato in prima linea su temi non sempre di facile trattazione. Ecco, perché sappiamo l'Italia essere un paese complicato sotto questo punto di vista. Per quanto ci riguarda, ecco, per quanto riguarda l'impegno dell'amministrazione comunale noi ce l'avevamo prefissati e stiamo portando avanti quella che è una linea che predilige la trattazione di temi disparati. Quindi cerchiamo di spaziare per offrire al pubblico un ventaglio di opportunità sempre più vasto. Al momento ci stiamo riuscendo, ritengo ci stiamo riuscendo molto bene quindi mettiamo in elenco un ennesimo appuntamento che siamo certi sarà di assoluto livello. Franco Arcidiaco si è scelto un tema molto delicato, molto importante questo significa che la stampa, la comunicazione ha una determinata responsabilità. E di fatti, di fatti, soprattutto si tratta di vicende che sulle spalle di quelli che hanno la mia età della mia generazione, cioè quelli degli anni 70, le abbiamo vissute sulla nostra pelle perché parliamo del periodo della strage di Stato, della strategia della tensione e quindi logicamente nessuno pensava mai di riuscire in qualche modo a scoprire la verità. Effettivamente abbiamo brancolato nel buio per parecchi decenni oggi finalmente grazie al processo drangheta stragista e la falange armata del dottore Lombardo e dei suoi collaboratori, tra cui Michelangelo Di Stefano che appunto è l'autore del libro, si getta uno squarcio di luce su tante vicende tra cui quella dei cinque anarchici del sud che erano questi cinque giovani anarchici di Reggio Calabria che sono morti in quello che all'inizio era stato rubricato come un incidente stradale e poi alla fine, così come tutti noi sapevamo, tutti noi immaginavamo ma non potevamo provarli in nessun modo, si trattava del classico incidente stradale organizzato dai servizi appunto per eliminare delle persone scomode scomode perché questi ragazzi stavano andando a Roma presso un noto avvocato a portare un dossier che dimostrava che quello che era passato come un incidente ferroviario cioè la strage del treno di Gioia Tauro era in realtà un attentato e dietro questa rivelazione ci sono poi tutte le altre vicende di quegli anni gli anni di piombo quando praticamente l'Italia non era altro che una scacchiera nella quale si giocava la guerra fredda e le nostre piazze rimanevano insanguinate per attentati che venivano poi, abbiamo scoperto, che erano organizzati dai servizi dei vari paesi che giocavano la guerra fredda nel nostro territorio.